musica musica e che cosa ha ruonato? sorce! foglie secca! come un ulimo fane che sorce foglie secca! ah! che cosa ha ruonato? e che chi ti ha ubbili? e che cosa ha ruonato? ma sono scurre da fare e che? ma c'è un ulimo fai sto su ma l'hanno ammallato no! ma l'hanno ammallato che c'hanno a cerittina i fogli di caderno e piacere quello di mamma che non è malato c'hanno a cerittina mamma di piacere che cosa ha ruonato? e un ulimo quello scorre in piedi e provate a carmè che cosa ha ruonato? ah ma se non siamo andati un ulimo figlio mi ha detto non la voglio sapere più quella mamma ti ha portato a scortare a preghese chiediamo stia facendo un ulimo non dormi più ma se non è bastita la notte e si apprima si ha ruot ci ha ruot e si ha ricercato la casa e mi pasticando il tutto stia facendo un ulimo e si va a usare e se si chiama e quanto va? adesso mi viene aveva due ore che lo hanno avvisato quando sono tornato tanto con manciolo io ti vengono nella casa di Francesco Capurano ci aveva messo due punti sotto il bello tu Lumi tagli il coso che lui piace ma quello pure in scarpara tagli le cose che non piace ma io la Lumi non mi facesse tagliare manca l'olio avanti e lui dovremmo aspettare l'olio e lui bello andò e capo niente è il suo modo di ricevere l'olio ma vedi scusate ma è che abbia sempre sta troppo malamente tanto del pensiero lo sai che hai una mano magica andò tutto, guarisce beh, fammi vedere che te ne state l'olio ma vuoi che è Foucault dottor, avete amissimano il suo pomatone cucello il suo pomatone cucello avete accominciato ancora il capo vostro io lo sapevo, un giulino accuomato giulino accuomato? però mai che volete dire? e che voglio dire dottor? avete sgraccia avete sgraccia avete sgraccia che è traslato in questa casa Surgi Foglie secche oh ma è che dai il numero Surgi Foglie secche che vuoi dire? dottor, questa è per denizia la ragionazione come vuoi dire? una figlia giù dal lago da qua un'auto come mancata adesso non mangio più non faccio i servizi salva sempre a piacere dottor casa ha riconato distrutto ma non sono capitato da un'umana gloria oh queste sono altre auto ma non è niente di grave sarà una sudata raffreddata sarà una fede di crescente qual è il problema? ora ci prepariamo una bella medicina e mi darò un po' di giorni passi bene beh facetemi vedere un po' che te allora sessanta Antonia è una cosa voi perdete un piccino d'acqua un piccino d'acqua un piccino d'acqua? eh dottor l'anese qua la vecchia è posta i fomani sono giunati un terremoto un albero tagliato sorge foglio secco un manciolino ci ha detto i capodini chiusi tutti i guai si abbatteranno sopra questa casa io non ci credevo ma dopo questi risultati dove c'è non fassare i suon c'è ancora gente che va presso i suon che popolo ignorante ha scienza vannanzi e qua si crede ancora i suon che gente ignorante o non ignorante ho fatto io che tutto quello che ha detto come un giulino si sta avverando fa un moto è quello fra voi dove chissà è quello che ha fatto che aveva lasciato un sconto anche a me l'ha lasciato un sponto piazzina che fa amorelli non è stato regolato andiamoci caldo decide ma che sogno si è fatto fra me e cosa ha detto un giulino colore parla e vorrei poter capire qualche cosa sopra questo benedetto suo ma come faccio dottor io sono a ricordare mi saldrezzi i capelli la palla si è riciclata come una nata a casa beh voi vedete un punto da sopra questo io sono venuta fuori ai patuletti che hanno andato ai cocci d'aglio e se mamma e padre sono morti quindici anni fa la verità padre è quindici anni mamma dice padre stiamo tagliando un albero sicco da fuori che non c'è e mamma non vuole che c'è poi da l'ufortunio è venuto fuori un sorgio che ha fatto un fritto se fio tu hai già trovato cinque marenche tu il nostro nostro quando erano i perdi sono l'aria dell'uomo e tu vanno cominciati a cadere tante foglie secche e questo è il primo risultato il piacino che sta muorendo e quando mai il piacino sta muorendo ma tu mi sono quante volte hai visto il padre tagliare un altro tre volte cinque volte vinte volte e tu sei venuto a me che cacchiotti non ti pensi ne hai mai visto lo sorgere in tante ma chissà quante volte e tu sei venuto a me cinque marenche da me ma quante volte hai pensato che si è riuscita una bella cascetta piena di marenche da me il tuo sogno che è venuto a me i fogli secchi si mi aiuta a fare l'ottobre novembre e beh non ci avevano i fatti ma basta perdere questa ricca che ti ha detto senti a me dei suoi ci ricordiamo solo le cose che sono già successe o che volessero che succedesse tutte le cose sono solo fantasie ma poche la povera gente i suon non si dice che vai a presto al suon pure lasciamo a perdere questi posteri e pensare cosa succede dottor ma come angiolina hai dato a capire che lo sposo non lo masto perchè mamma e nonna chi è angelo che ormai non lo mette fuori perchè ho sposto da romanzo è sacco perchè ho chiamato figlio no 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 ma facciamo la visita accurata non tralasciamo nulla lo sapete quando mi si ponte faccio succedere non lo sapere pure in muore il muore Ecco qua, allora, sento un respiro, un po' affannoso, asma, cervello ricotta da percusa percusinum, come? Oh, quanto mi sei? Grazie, dì trenta tre. Dottor, la seconda fine è diec. Ma tu le ti ignorano? E di diec? Diec. Ah, senti, senti, non potete lasciare un piede, prontite, ci vuole un ducotto di Malibas Malibarum. Come? Ah, malva, e non mi dò non irmi si cucendo un piede. Ah, già, già ho tene, qui, esattamente. E' sì? Dente. E' un mal di carta? Sì, mal di testa? Cevallo di cotta di migna, mignarum. Come? Aramegne, aramegne. Vabbè, un'azza? Tanto, come? Colano poca. Raffreddore. No, mi to' bollano mezzo litro di vino, un po' ciutare. Vabbè. E' sì? E non fa fare tutto a me. Ma vuole che sassi? Che fosse cotta. Vabbè, se avessi pigliato un colpo di sole, non ti facessi male con che dente. Trissati a rire. Non dormissi la notte. Pa, non è una soggettazione. E' ritrovato qualcosa adatto a te. Eh, dottore, e di che sei? Ma non è che mi piaceva a pigliare tutti i malati d'uomo? E' questo che vuole vostro. Voi, il nuovo frate dei medici, e credete a far cucchiere. La vita rende con i medici e con i missionari. Che fa i missionari? Vado all'africano e ci dice, ma no, voi credete ancora che c'è un uomo? Ma basta. Noi li teniamo pazienti a davvero. Tu vuoi te? E quello si converte. Ecco se mangio. Che fa uire? Vado al cliente e ci dice. E quando è una buona tra l'alluccia? No, non posso fare due. E ci dice. E ci dice. Voi non credete ancora che i malati gli vengono? Vi fa tutto come un malotto. No, basta. Avete credito alla scienza. I malati gli vengono, se ti abbuffo troppo. Se peggio freddo, ti fa così, è naturale. E s'hanno curati i remedi naturali, proprio come già ci prescritti a via sì. Ehi, dottor, vi hai sapete l'occhio. Io ho un'idea che missionaria. Tutto l'anno ci vengono tummulterà, vedele le salsicce, coca e palluccia, manestre, una tacca di filetta, fa su, e che so, un canto, che so. Io stiamo sempre a vostra disposizione. Più non è noi. Poi mi chiamate, ehi, dottor. Dottor, c'è la vita scusa, è che noi abbiamo perso proprio l'età. Poi, ci siamo persi dal lutto prima del tuo tempo. La verità, sto sonno non ci voleva proprio. Dottor, però Giulio l'ha consigliato in un romano. E gli stanotte c'ha già provato. Poi, dottor, e cancella tutto il sole che fa. O posto di un zunno, il foglio di caccia, faccio a zunno i panni stessi, perché portano fortuna. O posto di un zunno, un sorge che ha seguito da dentro fortuna. Faccio a zunno la sorta di porco con grassi, come dice ricchezza. O posto di un zunno, i fogli di caccia, ma c'è zunno. E vengono. Vengono. E cosa? C'ho lei che m'ha detto. Un albero, rossa, carica, carica di culoino. Solo così, facciamo arrivarsi noi figlioli. Poi, e che mosa fanno i zunni su ordinazioni? oltre, ma non è che mosa, ma sarebbe troppo comodo così. E poi, mi fai capire, come fai a cancellare il zunno che ti hai fatto, e che tanti sono le cose che ti piacciono. E come mangia lui? con caccia e con gesto. Giulia, Fulma, oggi parlo. Ma, pensate a cosa si è. Io ti ho detto come la pelle, può fare come voi. Eh, dottor, ma, in me che ci crede tanto. Prova? Chissà, un pataterno c'è la mano a bolla. Fulma, vai, vatti a collo qua, vai, che è un giornale. Sì, noi ma, vada a collo, che è un bracco ma. Speriamo che lo cangi un suono, noi ma, se no i rumori c'è te. I papà, non c'è bravo. Questa è una umana caomia, posso farmi i suoi suoi ordinazioni? E se non mi hanno un cangi un suono, ma che facciamo? No, non c'è un giulino che lo trovo, non c'è un ruolo mai. Eh, qua stiamo perdendo tempo. Carbone, vada con un mangiulino, e si è preparato un contrasuono, se sbagliassava. De cose, de cose. Sta casa, è davantata una porta da macchina. Chi va, chi va. E chi va, diciamo. Per un suono, stiamo smuendo in un paese. Una addvenatrice, un minuto, mica te come ho, vai. Petrusina, ramai, asciazzo l'annazzo, Avanti. Tato, eravate su un giulino. Ma, era ora con mangiuli. accettato, accettato. Tu sei la speranza nostra. Solo me ne, ma sei intaccato, sta dormendo. Ma, io non ci pensavo, ma se non c'è un giulino. sì, 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 sì. La cosa, mi aspettavo il tempo che ci voglio. Quando per me mi ha contato il suono, il l'allà, già già pensato, un suono ma tenere, ma c'è un domenario particolare. la mamma che chiangia, e i marini che dò, e tutti chiangia, ma, può sorgere, vuole essere. Su sorgere, ma solo femmine, sì, voglio, dicerci, giù. C'è differenza? È, ma, è certo. Ma, non c'è un giulino. Su sorgere, ma solo femmine, non si può fare niente. Sperdone, diva, malattie, guai, lutto. Su sorgere, femmine, sorgere, non c'è una ciotola. Non so, con me, tanto malattie, ma, non c'è una ciotola. Non parliamo di foglie. Si toglie la di più, perché, po' pretendo, mettiamo un giocchio in un giocchio in una ciotola e poi mi esce, e i fogli di più possono mai portare giù a mente i cristiani. Sui, poi, erano le ricerze, un discorso, caldoci, tu mettiamo un giocchio nelle ricerze in una ciotola, mi esce, ad un giocchio. e i fogli di voi stessi, possono pure portare fortuna, le ricerze, e capite un giocchio. Giovanni, io non capisco più niente, o metà che dirà a voi, tu affa rumore, ma sono sciuti pure i suoi maschi, e i fogli di ricerze. E che vuoi capire la bagnosca? Ma io voglio dicere un po' faccio un po' di cose, perché se sorge la maschi, le fogli di ricerze, non c'è la posizione, ma, beh, facciamo condicare la zona, le fogli di ricerze, e poi, non c'è la posizione, sai che stai, vai dal conome, ci sono 5 capi, senza che se ne accorge, vi porto qua questi capi, gli tacco una piscana, e faccio una ciotola, e gli dico, una ciotola, e faccio una ciotola, e poi, va per i 10 anni, prendiamo a fuoco, torno qua, e faccio il docente, e invece, vi formano il magico, ti patrullo al suolo. MIT Amma, c'è niente. 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 Amma. 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 Amma.